Nuova puntata di Fanny Moon e quest'oggi guardate un po' chi ho qui al mio fianco Maria Rosaria Io ti ho visto già l'altra volta che andavi in quel di Verona Quindi ce le hai con questi viaggi, con noi non ci stai mai Però quando fai un viaggio lo fai come si deve Mi hai visto? Ma perché eri a Verona? No, ti ho visto in televisione durante la puntata Tu hai detto siamo qui a Vini Italy Ah ecco, mi segui allora Certo, io ti stalkerizzo E' il mio fan Il fan numero uno Però devo dire che ogni volta che Maria Rosaria appare con noi in trasmissione Ne succedono delle belle E quest'oggi infatti dov'è che siamo? Siamo a Napoli Che è praticamente la tua regione, no? Certo Lo sveliamo? Vi ho portato in Campania Quindi anche oggi ne vedremo delle belle Oggi vi faremo scoprire i posti più curiosi, più belli Assolutamente sì E non solo Non solo Però non possiamo dire nulla perché ovviamente c'è quel sommario che poi ci svelerà Quello che vedremo tra poco in trasmissione Però qualcosa da possiamo dire che sono i nostri riferimenti che sono Fanny Moon Facebook Facebook Mettete mi piace, cliccate like perché così sarete aggiornati su tutte le nostre trasferte Dove andremo, cosa faremo eccetera eccetera E potete rivedere anche la nostra Maria Rosaria che anche se appare poche volte durante l'anno Quando appare è sempre un bel vedere Poche ma buone E poi è sempre un bel vedere perché giustamente C'è Napoli C'è Napoli C'è un panorama Il Vesuvio O Vesuvio O Vesuvio Dillo bene O Vesuvio E poi ricordiamo a tutti gli amici da casa che se vogliono partecipare con noi in trasmissione Come possono fare? Possono telefonarci al 333-333-8693 Quindi se siete artisti, cantanti, ballerini o semplicemente volete anche partecipare con noi in trasmissione o se siete anche nuovi conduttori e volete proporvi Perché no? Perché no? E venite con noi Magari non dico Napoli ma pure sì In giro In giro Per Italia e non solo Detto questo che c'è da dire? Altrimenti c'è Facebook o in qualsiasi modo al giorno d'oggi non si riesce ad essere inanonimato Esatto Quindi ci trovate Fannymoon è ovunque Anche Maria Rosaria su Facebook giustamente quindi Sì mi trovate, trovate anche me Cercate l'amicizia eccetera eccetera Comunque c'è anche YouTube, il nostro canale YouTube dove c'è Praticamente ci sono tutti i nostri servizi Tutte le nostre avventure in Italia, fuori dall'Italia eccetera eccetera Quindi rimanete e state connessi con noi Avete tante possibilità di poterlo fare o in televisione o tramite internet Assolutamente sì E adesso posso dire la parola magica? La dico io? Sommario 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 Sommario